Per fotorecensioni parliamo della stampante IT fotoprinter S420, una piccola grande stampante in grado di soddisfare le esigenze sia del privato che può con questo apparecchio stampare delle ottime 10-15 a un costo abbordabile che del professionista che può eseguire delle ottime foto e fototessere con una qualità di risoluzione e di colori veramente interessante. Il rapporto qualità prezzo della stampante S420 è veramente eccezionale come del resto anche il costo del materiale consumabile. Stiamo parlando di una stampante che utilizza il processo di stampa per sublimazione. Nella confezione del consumabile quindi troveremo 50 fogli di carta fotografica 10-15 e il ribbon da posizionare nella stampante nel modo in cui vi spiegherò nel corso di questa recensione. Andiamo ora ad esaminare la stampante S420 in tutte le sue funzionalità. Possiede un vano per il posizionamento del ribbon, una contattiera per riconoscere tramite microchip il corretto inserimento della pellicola e l'originalità del prodotto. Un cassetto per il posizionamento della carta. Quest'ultima possiede due tratteggi all'estremità, uno più lungo e uno più corto. Il lato più corto verrà inserito nel verso in cui il cassetto viene infilato nel vano della stampante lasciando esternamente quello più lungo. Un comodo lettore frontale rende possibile l'inserimento direttamente in macchina di schede di memoria come multimedia card, memory stick, secure digital e compat flash oppure di una penna usb. Nella parte posteriore della macchina troviamo la presa elettrica e l'interruttore di accensione, il connettore a 15 poli per il collegamento di un comodo filocomando per gestire tutte le funzioni della stampante, l'ingresso usb per la connessione al pc. Per quest'ultimo vengono forniti su dischetto i driver della stampante ed un efficace programma chiamato foto desirè per consentire all'utente di gestire la stampa di fototessere direttamente dal computer. Andiamo ora a spiegare il funzionamento e ad installare la stampante. Per prima cosa inseriamo il ribbon nella macchina. posizioniamo in modo corretto la carta fotografica nel suo cassetto. e cioè con il lato del tratteggio più basso verso il fondo, nel lato del cassetto che viene inserito nella fessura della macchina. dopo questa semplice operazione accendiamo la stampante. La settiamo con le impostazioni di menu gestibili da telecomando e cioè dal setup scegliamo italiano come lingua e facciamo tutte le altre correzioni che riteniamo utili. Per stampare una foto 10-15 inseriamo nel lettore una scheda di memoria o una penna usb. Scegliamo l'opzione foto rapida per stampare una sola foto, un gruppo di foto o tutte le foto. una volta selezionata l'opzione il display ci mostrerà i file foto che andremo a selezionare ed in seguito a stampare con la pressione del tasto print. con la funzione adesivo potremo realizzare delle miniature su pellicola adesiva con un particolare supporto carta che al momento non commercializziamo. con la funzione sommario possiamo stampare un file con funzione di indice per riassumere in miniatura tutte le foto che intendiamo stampare. la funzione dispositivo ci consente di poter scegliere manualmente il supporto di memoria che inseriamo nel lettore. possiamo effettuare a questo punto una prova di stampa e lo facciamo con una fototessera. inseriamo la scheda di memoria, scegliamo la funzione fototessera e confermiamo con il tasto ok dal filo comando. scegliamo le dimensioni della tessera o del passaporto e il numero di foto da stampare. abbiamo anche la possibilità di stampare due soggetti diversi su un unico foglio e di fare un massimo di 4 più 4 foto formato 30-40 o 37x47 o di scegliere altri formati dal menu che vi sto mostrando. decidiamo di scegliere 37x47 2x4 lo schermo ci mostra 8 riquadri di cui 4 sono arancioni premiamo ok e andiamo a selezionare il file che ci interessa premendo nuovamente ok compare adesso il file scelto in menu chiamato conservazione nel quale possiamo muovere, ridimensionare, copiare, ruotare, correggere il contrasto, il colore, la luminosità, la nitidezza e tornare alle condizioni di default per azzerare tutte le correzioni effettuate per confermare prima di passare ad altre correzioni primere sempre ok poi spostare il cursore sulla funzione desiderata premere nuovamente ok effettuare la correzione e premere ok per uscire e spostarsi su un'altra correzione una volta finito spostare il cursore su ok da menu premere il tasto ok per uscire in questo modo l'immagine da noi corretta ed elaborata si posizionerà nei primi 4 riquadri e si illumineranno di arancione gli altri 4 procedere come fatto in precedenza per posizionare l'altro soggetto finita questa operazione premiamo il tasto print per stampare la fototessera il processo di stampa si articola in 4 passaggi del foglio di carta fotografica dove prima vengono impressi i 3 colori primari e poi come ultimo passaggio una pellicola protettiva che ha il compito di fissare e proteggere la foto da polvere, acqua e agenti atmosferici in genere e garantire alla foto una durata minima di 20 anni durante questi passaggi il foglio di carta fotografica esce fisicamente dalla parte alta della stampante e viene protetto da una cupoletta in plastica realizzata per evitare che la polvere si posi sulla carta durante il processo di stampa infatti se qualche granello di polvere finisse sulla carta praticamente verrebbe bloccato sotto gli strati di ribbon che con il processo di sublimazione vengono fissati sulla carta rovinando così la foto stessa questa stampante può anche essere connessa ad un pc per stampare direttamente file corretti naturalmente sempre in formato jpeg con i programmi che più utilizzate ripetiamo che la confezione del consumabile contiene due buste sigillate da 25 fogli 10x15 di carta fotografica ed una confezione di ribbon per un totale di 50 stampe buon divertimento e buon lavoro con la vostra nuova stampante fotografica IT S420 da fotorecensioni.it